Da un lato un materasso abbandonato ed appoggiato ad un muro, dall'altro invece due carcasse di auto che giacciono lì ormai da anni. Ci troviamo nel piazzale del caseggiato popolare di Via degli Accolti che ospita 36 appartamenti in tutto. Ci sono tanti tipi di problemi. Abbandono di queste macchine, quella macchina rossa sarà una ventina d'anni, quella lì lo stesso. Ci sono macchine abbandonate, ci sono tante problematiche. Sul retro altra sporcizia, ma non solo degrado, anche calcinacci che cadono dai muri esterni e soprattutto tanta umidità, come ci raccontano questi inquilini. Ci sarebbero da fare anche i tetti, comunque siamo messi male in queste case, in queste case siamo messi troppo. C'è la muffa anche. Muffa, umidità, quando piove ci sono le infiltrazioni, oppure quando piove a vento devo tamponare, mettere l'asciugamano in terra perché mi entra l'acqua in casa. Insomma, siamo messi troppo male. Intanto a Rezzo Casa la partecipata che si occupa di edilizia popolare avrebbe già effettuato dei sopralluoghi tecnici all'interno degli appartamenti in vista di interventi per risolvere così una volta per tutte i problemi con la muffa. A Rezzo Casa noi chiediamo che vengano a metterci le case a posto. Per lo meno, sì, insomma, salvare, insomma, mettere, probabilmente il problema del catrame che su, insomma, è tutto, c'è le infiltrazioni, da rimuovere il catrame, rimetterlo, 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 insomma, rimuovere. E a mettere a posto queste case che tolgono la muffa. Noi questo chiediamo, non chiediamo altro, che ci vengono a mettere a posto queste case.